È piuttosto importante, gravoso, abbiamo parlato più volte anche negli ultimi mesi delle difficoltà di questa società e quindi questa è una cosa che aggrava ulteriormente la responsabilità del mio ruolo. Certo, se devo dare un significato a questa decisione dell'Assemblea dei Soci, credo che sia da individuare nella volontà reale di disimpegno da parte dell'attuale compagine societaria, in particolare della famiglia Matarrese, che da più volte ha messo a disposizione le azioni della società di chi fosse interessato a partecipare alla gestione di questa società. Il mio incarico, tra l'altro, oltre a quello di gestire al meglio con le risorse che saranno disponibili direttamente dalla società stessa, anche l'apertura a eventuali nuovi partner e soci che in qualche modo allo Stato sarebbero necessari anche per rilanciare la società. Questo è il messaggio, credo, più importante che può essere letto dal comunicato. Non ho avuto fino ad ora nessun contatto, così come non l'ho avuto nelle passate occasioni, per cui è, diciamo, un anno zero sotto questo aspetto per quel che riguarda la nostra società e per me. Quindi l'impegno sarà quello di cercare di massimizzare tutte le risorse possibili che sono a disposizione della società per avviare un nuovo percorso e sperando che durante questo percorso appunto ci sia l'apporto di qualcuno che permetta a me, alla società, di rilanciarsi secondo le aspettative e le potenzialità che io ho detto più volte grandissime di questa piazza sportiva. Lo Stato d'animo del Presidente, indubbiamente, è quello che rispecchia gli ultimi mesi. Però è un vecchio leone che non si è tirato indietro, sì, ma con grandissima dignità e con grande affetto per questa società. Per cui io spero che il lavoro che noi facciamo, che lui vedrà e sarà sempre presente, ovviamente, da lontano. Io credo che, spero che questo nostro lavoro dia a lui le soddisfazioni che si aspetta da questa piazza, da questa sua creatura. Con Torrente abbiamo avuto dei contatti telefonici, è un allenatore del quale abbiamo molta stima. contiamo di incontrarci per definire se riusciamo a definire.